Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Siria Pingo e Matteo Vitali, protagonisti di Temptation Island, hanno conquistato i cuori di tutti con la loro emozionante storia d'amore. Dopo aver affrontato e superato i loro problemi di coppia durante il programma, i due sono usciti più forti e innamorati che mai. Siria ha spesso confermato questo sentimento, e recentemente Matteo ha raccontato ai suoi follower come sta procedendo la loro relazione. Matteo Vitali ha risposto a numerose domande dei fan tramite il box delle domande su Instagram, svelando dettagli sulla sua esperienza a Temptation Island e sulla sua storia con Siria. Ha assicurato che tutte le emozioni vissute nel programma erano autentiche, comprese la lontananza e i dubbi che lo assalivano nel villaggio dei fidanzati. Quando un fan gli ha chiesto se la loro relazione avrebbe potuto prendere una piega diversa senza l'esperienza del programma, Matteo ha ammesso, sì, sarebbe potuta finire diversamente. Ha spiegato che Temptation Island non solo ha rafforzato il loro legame, ma è stato anche un viaggio emotivo personale. Matteo ha parlato per la prima volta del bullismo subito, un segreto che non aveva mai rivelato nemmeno a Siria per paura del giudizio. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.